Babar l'elefante nacque nel cuore di una grande foresta. La giocava con gli altri elefanti e le amiche scimmie, finché non arrivò un cacciatore che uccise la sua mamma. Triste e solo, Babar lasciò la foresta e raggiunse una grande caotica città. In città conobbe una gentile vecchia signora che lo vestì elegantemente e gli insegnò le buone maniere. Fin dal 1931 i bambini di tutto il mondo sono stati affascinati dalla fiaba di questo elefantino smarrito che ha trovato la sua strada in una grossa città e che tornato nella foresta è stato acclamato re degli elefanti. Nel 2001, Babar, uno dei personaggi più amati di tutti i tempi, ha festeggiato il suo settantesimo compreanno. Per oltre sette decenni le avventure di Re Babar sono state narrate da Jean e Laurent Debrunov in 78 episodi tradotti in 20 lingue. Il premiato studio di animazione nel Vana continua a dar vita alle avventure di Babar con una delle più classiche serie di cartoni animati e due lungometraggi. Non perdetevi uno dei momenti più divertenti quando Babar festeggia l'anniversario della sua incoronazione. Lunga vita al re Babar!